Iva Zanicchi fa una gaffa all'Isola dei Famosi, Costanzo, azzardato da parte sua. Settimane fa Iva Zanicchi in diretta all'Isola dei Famosi, commentando la grande perdita di peso dei naufraghi, ha rivelato di credere che le persone più magre sono meglio stanno. Una confessione che poco è piaciuta a una lettrice del settimanale Nuovo, la quale ha voluto scrivere un email a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica sulla TV, per esprimere il suo più totale dissenso, mi è sembrata una frase sbagliata e pericolosa, doveva ricordarsi che ci sono milioni di persone che soffrono di disturbi alimentari. Il marito di Maria De Filippi ha dato ragione alla signora di Napoli non facendo mistero di credere che Iva Zanicchi avrebbe fatto un'uscita un po' azzardata. Dire che questa magrezza sia sinonimo di salute è stato un azzardo da parte sua. Isola del Famosi, Maurizio Costanzo sulla gaff di Iva Zanicchi, rischia di dare un'immagine sbagliata. Maurizio Costanzo, sempre in questo suo intervento sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, ha poi dichiarato che Iva Zanicchi, con quella sua uscita sulla magrezza dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, ha rischiato di dare un'immagine del tutto sbagliata di quello che è seriamente il benessere. Con questa sua dichiarazione Iva Zanicchi ha rischiato di dare un'immagine sbagliata al pubblico a casa su ciò che è considerato il benessere. Insomma Iva Zanicchi all'Isola dei Famosi, sulla quale ha espresso la sua opinione Lorella Boccia, ha fatto un'uscita che avrebbe dovuto evitare per non essere fraintesa e creare tutte queste polemiche. Maurizio Costanzo su Iva Zanicchi all'Isola, avrebbe potuto dire altro. Maurizio Costanzo ha poi concluso questo suo lungo intervento sull'ultimo numero del magazine Nuovo dichiarando di pensare che Iva Zanicchi all'Isola dei Famosi avrebbe potuto dire altro nel momento in cui è stata chiamata da Ilari Blasi a dare la sua opinione sulla eccessiva magrezza dei naufraghi. Forse, l'opinionista dell'Isola dei Famosi avrebbe potuto dire altro.